È uno dei simboli della città di Sondrio, luogo di culto tanto caro ai fedeli, collocato su un punto di passaggio dove da secoli appunto transitano i pellegrini, la chiesa Santa Maria della Sassella, santuario nel cuore dei fedeli, dal 25 di marzo di quest'anno diventerà anche santuario del Cesano, porta della misericordia. Settimana prossima avremo questa festa in cui il Vescovo dirà a tutti ufficialmente che questo è un luogo santo, è un luogo dove si può incontrare il Signore, dove si può incontrare la sua misericordia, dove si può fare una bella esperienza di Dio. Mi piace sempre sottolineare che da una parte è un santuario perché per la gente lo è già da tanti anni, però mi piace dire che non basta il desiderio della gente ma diventa santuario perché la Madonna vuole che questa chiesa sia a lei dedicata, che questa chiesa sia aperta, e che questa chiesa sia un luogo di misericordia e di incontro con l'amore di Dio. La pergamena di consacrazione risale alla 2 febbraio 1521. È una pergamena conosciuta del 2 febbraio 1521, quindi sono i 500 anni. Questo fu un luogo di culto prima dell'anno 1000? Sì, gli scavi archeologici e poi anche un po' la tradizione delle fonti riporterebbe intorno all'anno 1000 la prima chiesa. Sappiamo per certo comunque che un edificio c'era, quindi probabilmente una piccola cappella, una chiesa già più strutturata, più ampia, almeno nel 300, e poi la chiesa che vediamo oggi, quella rinascimentale. Questo è un anno molto importante, per questa possiamo definirlo una pietra preziosa incastonata nei nostri vigneti. Quindi l'amministrazione comunale di Sondrio è molto vicino alla chiesa, perché è un luogo molto caro ai sondriesi. Il comune di Sondrio vuole sostenere queste iniziative, in particolare con il nostro museo, e poi noi vorremmo così sostenere un evento musicale, sarà presentato l'11 di luglio. Nelle celebrazioni di questo cinquecentenario, noi partecipiamo in maniera attiva, riallestendo parte della nostra sezione dell'arte sacra al secondo piano, dando ampio spazio appunto ai frammenti che erano emersi negli scavi del 97-98, esponendoli per la prima volta al pubblico, quindi effettivamente un allestimento davvero eccezionale. Giovedì 25 marzo, le 21, la messa celebrata dal Vescovo Oscar Cantoni, a porte chiuse. Grazie. 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 Grazie.